professore la stampa non fa che ripeterlo c'è un'emergenza nella nostra società che rischia di portarci alla rovina dai ristoranti agli alberghi dalle fabbriche agli ospedali nessuno vuole più lavorare sai che era già dal gennaio del 1860 quando la frase nessuno vuole più lavorare venne usata per la prima volta in quell'occasione una lettera al giornale richmond inquire sosteneva che l'abolizione della schiavitù avrebbe condotto le nazioni alla banca rotta poco più di 30 anni dopo un giornalista del kansas usava le stesse parole per ricordare che gli scioperi avevano privato di mano d'opera le miniere di carbone costringendole alla chiusura e in generale è da un paio di secoli che ci viene ricordato con scenari apocalittici quale rovina attenderebbe l'umanità se tutti smettessimo di lavorare c'è anche da dire che da qualche tempo la stampa italiana si sta ponendo la stessa domanda come mai in un paese attannagliato dalla disoccupazione le persone si sono disaffezionate al lavoro perché non c'è più personale per i nostri ospedali i nostri ristoranti e come è iniziata questa crisi morale che secondo certe narrazioni porterà il nostro paese alla banca rotta anche da una volta per rispondere a questa e a molte altre domande che toccheranno in particolare il mondo della ristorazione ma anche della grande distribuzione abbiamo con noi oggi una grande ospite la professoressa francesca coin sociologa autrice di un libro le grandi dimissioni edito da inaudi di cui si sta parlando molto e che è davvero da non perdere buongiorno francesca buongiorno daniele buongiorno alberto è un piacere essere qui rispondo molto volentieri alle domande che mi avete posto però vorrei partire da una questione opposta come quando il lavoro è diventato l'attività centrale della nostra vita ecco ti fermo perché siccome questo è un tema abbastanza grande direi che lo affrontiamo subito dopo la sigla assolutamente sì bentornati a doi denominazione di origine inventata il podcast di alberto grandi e daniele soffiati che vi svela tutta la verità nient'altro che la verità sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana allora professoressa come e quando il lavoro è diventato l'attività centrale della nostra vita dunque nel libro provo a fare una ricostruzione che dà un po' di respiro storico a questa questione e che comincio intorno agli anni 80 quando la narrazione dominante anche i media mainstream la televisione hanno cominciato a parlare di lavoro come una forma di emancipazione quindi nell'immaginario di chi cresceva in quegli anni anni che hanno fatto seguito alla crisi degli anni 70 i primi processi di destrutturazione delle fabbriche la crisi petrolifera il lavoro era diventato una forma di emancipazione di realizzazione di sé io ricordo alcuni film di quell'epoca che facevano breccia nell'immaginario di una generazione che stava crescendo in cui sembrava che il lavoro fosse qualche cosa a cui tendere quasi appunto lo scopo della nostra vita stessa e questo è radicalmente diverso rispetto a come il lavoro era stato visto in precedenza questo stato di cose si è però incrinato dando vita al cosiddetto fenomeno delle grandi dimissioni che effettivamente quello di cui si occupa il libro a partire da quello che è accaduto anzitutto negli Stati Uniti dove abbiamo visto circa 48 milioni di dimissioni volontarie nel 2021 50 milioni di dimissioni volontarie nel 2022 però guarda anche a paesi per esempio come la Cina in cui ci sono stati movimenti di critica al modo in cui il lavoro è organizzato il cosiddetto 996 la tendenza sulla carta a lavorare dalle 9 del mattino alle 9 di sera per sei giorni alla settimana e che però poi nella vita reale delle persone si concretizza in turni di lavoro anche di 15 ore al giorno anche per due settimane di fila anche in Cina questo modello produttivo è stato messo in discussione e poi arriviamo all'Italia dove in modo controintuitivo essendoci in Italia un tasso di disoccupazione relativamente alto 5 milioni di persone scoraggiate o disoccupate ciò nonostante anche in Italia oramai da un paio d'anni ci sono circa 500 mila dimissioni volontarie in ogni trimestre il che è un numero molto alto specie in relazione ai licenziamenti che appunto sono invece una quota molto ridotta rispetto alle dimissioni volontarie delle cessazioni. Francesca nel tuo libro tu fai un parallelismo tra passato e presente che da storico economico ovviamente mi ha molto colpito perché parlando degli Stati Uniti spieghi come nella fase emergente del capitalismo industriale tutta la dedizione al lavoro che di cui è impregnata la società oggi all'epoca non c'era in qualche modo c'erano anzi dimissioni volontarie fughe scioperi questo perché in assenza di retribuzioni adeguate e meccanismi di promozione gratificazione le persone si sentivano incentivate ad andarsene per cercare qualcosa di meglio e quindi le aziende dovette correre di pari quindi in qualche modo si dovette riqualificare il lavoro da questo punto di vista. Infatti questo è un ottimo punto di partenza perché circa un secolo fa per esempio nelle fabbriche Ford c'era un turnover del 370 per cento che significa che Henry Ford doveva assumere quattro volte il personale di cui aveva bisogno per sopperire a fughe continue dal lavoro a forme di assenteismo e per sopperire appunto a questa situazione quello che ha fatto è stato introdurre forme di retribuzione diretta indiretta differita quello che è diventato noto nell'immaginario comune diciamo è il cosiddetto five dollars day che è il giorno in cui Ford ha raddoppiato gli stipendi però contemporaneamente in quegli anni stiamo parlando del 1915 circa 1920 contemporaneamente si è imposta la settimana lavorativa di cinque giorni e di otto ore alla settimana e tentativi appunto di fidelizzare la mano d'opera di suggerire ai lavoratori che se fossero rimasti nel luogo di lavoro avrebbero potuto avere delle retribuzioni più alte degli avanzamenti di carriera e nel tempo anche forme di pensionamento tutte queste appunto forme di tutela di fatto hanno consentito al lavoro di diventare la norma nella nostra vita o comunque un'attività che aveva una contropartita sufficiente che disincentivava quelle fughe che invece hanno caratterizzato il mondo del lavoro storicamente quindi stai dicendo che la crisi del Fordismo ha creato le premesse per quello smantellamento dei diritti e delle tutele che c'erano state appunto fino a diciamo gli anni 70 grosso modo e che oggi ha aperto quella strada le grandi dimissioni. Esattamente questo infatti da partire dagli anni 80 cominciamo a vedere le prime ristrutturazioni aziendali primi ricenziamenti di massa poi questa parola che è diventata di uso comune precarietà è diventata proprio la norma dei rapporti di lavoro e a quel punto le ragioni per cui si rimaneva nel luogo di lavoro hanno cominciato gradualmente a venire meno nel libro cito il dibattito che negli anni 90 già negli anni 90 prendeva piede nel New York Times in cui si diceva che alla fine la fedeltà è una relazione reciproca i datori di lavoro alle aziende sono fedeli ai lavoratori nel senso che incentivano la loro permanenza e soddisfazione nei luoghi di lavoro quando questo è venuto o meno gradualmente i lavoratori hanno cominciato a chiedersi perché mai dovrei essere io fedele all'azienda se l'azienda non è fedele a me. Francesca uno dei settori più esposti alle grandi dimissioni e di cui tanto si è malamente parlato negli ultimi anni è quello della ristorazione c'è stata e c'è tuttora tanta narrazione deteriore al riguardo tipo non si trova più personale nessuno vuole più fare il cameriere i giovani non hanno voglia di lavorare e di fare la gavetta. Sì questo è quello che si dice di fatto una parola che è diventata di uso comune in questi anni è la parola divano quindi il fatto che il vero problema dell'economia italiana del mercato del lavoro italiano è che le persone amano molto il divano in realtà quello che si nasconde dietro questa metafora è un tessuto produttivo che si è andato impoverendo fortemente privo di investimenti nel quale la ristorazione è diventata per certi versi un grande compensativo specie al centro sud e quindi laddove mancavano o venivano a susseguirsi crisi aziendali smantellamenti di distretti industriali si tendeva a dire che avremmo potuto sopperire a tutto questo con un po' di ristoranti un po' di bar o con un'economia sempre più basata sul turismo che abbiamo visto chiaramente che non è una soluzione ma forse questo è un sintomo di un problema. Dunque come tu ci stai spiegando turismo commercio e servizi costituiscono sì una parte fondamentale del tessuto economico del nostro paese ma non bastano l'Italia non può reggersi interamente su ristoranti alberghi e negozi anche aggiungerei. Sì è quello che abbiamo visto quando andiamo un po' a scavare anche a quello che avviene nella ristorazione nell'accoglienza è che molte di queste attività hanno una vita non troppo lunga nel senso che su cento bar e ristoranti che aprono dopo cinque anni ne restano in vita 45 quindi stiamo parlando comunque di un tessuto produttivo che si è fortemente impoverito e nel quale la ricerca di lavoro ha fatto molto leva appunto sull'accoglienza e la ristorazione ma questo ha creato una situazione problematica da un lato dal punto di vista di chi lavora per le condizioni di lavoro che si trovano spesso ad avere e dall'altro anche nell'idea complessiva del nostro paese che ha avuto delle soluzioni semplici che poi si sono rivelate non essere soluzioni e che nel frattempo ha visto decadere invece alcuni dei nodi produttivi più importanti del paese stesso. Fra l'altro tu adesso in questa risposta hai fatto riferimento alla soddisfazione. Tu nel tuo libro dai un dato che a me mi ha fatto tremare cioè la grande insoddisfazione degli italiani nel luogo del lavoro a questo punto non parliamo solo di ristorazione però mi sembra che nella ristorazione questo dato sia più eclatante in ogni caso il numero che tu dai è il 4% degli italiani solo il 4% degli italiani è soddisfatto del lavoro che svolge. Sì il Gallo Poll è un sondaggio sulla popolazione occupata che viene fatto su 140-160 paesi al mondo e guardando i risultati di questo sondaggio l'Italia figura tra i paesi in cui il tasso di soddisfazione è più basso perché il tasso di soddisfazione di solito è intorno al 15-20% l'insoddisfazione nelle sue varie sfumature è intorno all'80% in Italia appunto si è detto soddisfatto il 4% delle persone sondate occupate è molto basso lo vediamo comunque anche in altre rilevazioni penso a quelle del Censis che negli ultimi due anni ha fornito dei dati allarmanti sul fatto che non solo c'è una disaffezione al lavoro ma molte persone oramai si rivolgono al lavoro solamente per ottenere un salario ma la motivazione al lavoro è venuta meno in tutto il paese. A maggior ragione l'insoddisfazione è più marcata in un settore, la ristorazione, in cui sono fortemente presenti precarietà, irregolarità e lavoro nero e se si fa fatica a trovare personale non è colpa, tu ci spieghi, del reddito di cittadinanza. Sì, la ristorazione è un caso eclatante per molti versi nel senso che le condizioni di lavoro sono andate deteriorandosi degli anni ed è sicuramente un esempio di basse ritribuzioni di lavoro molto spesso sommerso e di povertà perché se guardiamo appunto ai dati dell'Ips vediamo molto chiaramente che la ristorazione è l'epitome del lavoro povero in Italia e questo è un dato comunque significativo perché vede anche una tendenza di lungo periodo che rivela che le condizioni di lavoro sono andate degradandosi per molte persone che lavorano nella ristorazione, addirittura tra i percettori di reddito di cittadinanza il 20% circa aveva una posizione lavorativa attiva e il 20% di questi lavora nella ristorazione. Quindi si dice che tra tutti i settori in Italia in cui il lavoro è povero la ristorazione sia la più rappresentata. Molti di coloro che erano costretti a chiedere un reddito di cittadinanza pur lavorando lavoravano nella ristorazione. Quindi un lavoro che non consente spesso purtroppo di arrivare a fine mese pur lavorando. Però allora da quello che ci stai dicendo stai mettendo in crisi uno dei pilastri della narrazione politica e economica degli ultimi anni cioè del fatto che un paese come l'Italia possa vivere di turismo. Noi l'abbiamo anche già detto tante volte in questo podcast ma mi sembra che anche tu sia d'accordo cioè non si può immaginare che il turismo sia il nostro petrolio non è così. Sì purtroppo diciamo il dibattito mainstream ce l'ha detto varie volte in questi anni che non era necessario investire in formazione o in ricerca e sviluppo perché abbiamo le spiagge più belle del mondo diciamo che il turismo è stato visto appunto come una panacea. In realtà quello che stiamo vedendo è che appunto specie al centro sud non solo queste imprese molto spesso hanno una vita breve ma che coprono di fatto un deserto produttivo in cui non solo non è una risposta per il paese ma una risposta problematica nel momento nel senso che guardiamo a quello che è accaduto la scorsa estate o anche in quella precedente in cui dunque il cambio climatico mette fortemente in crisi. L'idea che questo settore possa essere trainante e comunque è diventato un settore in cui l'improvvisazione talvolta fa sì che le condizioni di lavoro o l'offerta stessa non siano di qualità. Negli ultimi lustri un grande fascino ha ammantato il mondo della ristorazione. Penso agli e alle chef star del web e dei social. Un fascino che però non può essere sufficiente, come ci hai raccontato, non solo ad arginare ma nemmeno a nascondere le crepe di questo settore. In effetti molto è stato fatto per dare lustro a questo settore. Penso alle serie televisive. In realtà negli ultimi anni sta emergendo tutto ciò che era rimasto prima in ombra e quindi sta emergendo un volto della ristorazione che è assai più segnato da forme di esaurimento e di burnout. C'è questa indagine degli ordini degli psicologi del Lazio insieme all'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che ha un po' grattato la superficie mostrando come il deterioramento delle condizioni di lavoro poi si riverbera in condizioni di grande stress, condizioni di burnout e forse qualcosa che non viene detto spesso è il grande isolamento in cui lavorano queste persone al punto che in molti casi dopo la pandemia c'è chi lamentava di essersi ritrovato o ritrovata con una vita sociale praticamente inesistente perché lavorare sempre nei momenti in cui le altre persone sono libere e lavorare con i ritmi a cui si lavora nella ristorazione spesso porta alla disintegrazione della vita sociale che è un elemento che viene troppo spesso trascurato. Io mi sposterai un momento, hai fatto riferimento alla crisi post-Covid, anche alla grande distribuzione perché anche qui la situazione è decisamente peggiorata soprattutto dopo la crisi legata al Covid. Sì, io nel libro provo a guardare in particolare a questi tre settori sia per il fatto che, insomma, tre settori, diciamo la grande distribuzione e la ristorazione perché sono tre settori caratterizzati dal lavoro povero e poi guardo alla sanità tutti e tre sono stati molto segnati dalla pandemia in modo diverso la sanità lo possiamo immaginare perché è stata segnata molto dalla pandemia a turni estremamente lunghi, grande sofferenza del personale però c'è una strana continuità tra la ristorazione e quello che è avvenuto appunto in settori come la sanità perché molto spesso le persone si sono trovate ad essere sole quindi la chiusura immediata appunto anche negli Stati Uniti di ristoranti eccetera negli Stati Uniti ha lasciato le persone a casa il ricorso a sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è stato impressionante nelle prime sette, otto settimane di pandemia il che mostrava che nel momento in cui c'è stato un lockdown molti sono stati licenziati e una delle frasi appunto ricorrenti era che durante la pandemia molte persone si sono accorte che al datore di lavoro che fossero vivi o morti o della loro esistenza non interessava assolutamente nulla e questa è la paradossale continuità tra la sanità e la ristorazione perché molte persone che si sacrificavano per il lavoro si sono ritrovate spesso ad essere state lasciate a casa o a lavorare in condizioni di elevatissima insicurezza e a quel punto la tendenza a lasciare o a mettere in discussione il proprio rapporto con l'azienda è stata messa in crisi e in tale contesto di occupazione sempre più precarizzata e povera tu Francesca ci spieghi che chi più ne paga le conseguenze sono spesso le donne mi ha colpito una frase che tu hai citato tratta dal libro Non farcela come stile di vita di Francesca Fiore e Sara Malnerich fondatrici del blog Mamme di Merda e la frase è questa lavora come se non avessi una famiglia e prenditi cura della famiglia come se non avessi un lavoro Sì, le due autrici sono state un po' un'ispirazione nel senso che mettevano in evidenza come il ruolo delle donne nel mercato del lavoro e anche le dimissioni quando riguardano le donne siano la cartina tornasole del fatto che le donne molto spesso hanno ancora un doppio carico di lavoro, il lavoro di cura e il lavoro ritribuito e durante la pandemia questo è diventato spesso ingestibile nel senso che tra le scuole chiuse le esigenze di cura e il lavoro diventavano carichi di lavoro troppo grandi determinando anche in parte in questo modo l'exit dal mondo del lavoro che abbiamo visto tuttavia c'è un tema secondo me che ha a che fare con le donne in particolare nella ristorazione che spesso non viene preso in considerazione e che però le donne che ho intervistato che lavorano nella ristorazione mettevano molto in evidenza e cioè oltre alle problematiche che abbiamo visto quindi orari troppo lunghi quindi troppo spesso parti di lavoro in nero quindi senza alcuna tutela c'è anche un'esposizione a molestia da parte dei capi questo è più diffuso di quanto venga detto è una delle due caratteristiche del lavoro della ristorazione che rimane sotto traccia da un lato rimane sotto traccia il burnout che caratterizza chi ci lavora e dall'altro rimane sotto traccia il fatto che molto spesso le donne sono esposte a molestie da parte dei clienti a molestie da parte dei datori di lavoro e questo anche perché un po' quello che mi raccontavano le lavoratrici è che anche la tendenza alla mancia o la tendenza al servizio venga spesso fraintesa o viceversa intesa dal cliente come una disposizione ad essere a servizio di qualunque sia l'esigenza in quel momento ed è chiaro che anche in locali fortemente esposti al turismo e quindi anche a una clientela che non ritorna quindi non di quartiere ma che va e viene questo pericolo diventa esponenziale quindi chi lavora in zone altamente turistiche le donne in particolare lamentavano un senso di insicurezza al lavoro che spesso non viene preso in considerazione dai datori di lavoro perché magari non hanno banalmente la preparazione a tenere in considerazione le esigenze delle loro dipendenti donne bianche o razzializzate nel qual caso la situazione è ancora peggiore questo è molto triste in effetti non ci si pensa mai io ti vorrei fare un'ultima domanda che si ricollega anche all'ultimo capitolo del tuo libro che parla apertamente della crisi del nostro modello di sviluppo citando il politologo Marco Revelli che a proposito della cosiddetta produzione snella e della svalorizzazione del lavoro ha detto che il nostro è un sistema che cerca di strizzare acqua da un asciugamano asciutto allora io temo che questa metafora inizia a riguardare una parte sempre più grande del nostro modello economico del nostro sistema economico e del sistema produttivo italiano in particolare perché mi sembra che questa cosa in Italia sia in qualche modo più grave più pervasiva rispetto ad altre realtà che magari hanno letto meglio penso alla Germania in particolare insomma se stiamo in Europa sì è una metafora folgorante in effetti perché racconta con la metafora dell'asciugamano ciò che spesso noi diciamo che le persone vengono spremute a lavoro e che anche come dire il modello produttivo italiano così fondato sulla compressione dei salari e del costo del lavoro è ben raccontato dall'idea di spremere sempre di più chi lavora in modo tale da assicurarsi una competitività che poi ricade quasi esclusivamente sulle spalle di chi lavora e questo va avanti comunque ormai purtroppo da diversi decenni ma stiamo un po' arrivando al capolinea nel senso che ormai forme di dumping contrattuale di insicurezza lavorativa le morti sul lavoro gli appalti, i subappalti sono più diffusi che mai specie appunto in settori come la grande distribuzione la logistica e paradossalmente in questi stessi settori troviamo alle volte imprenditori che nei giornali lamentano l'incapacità di trovare personale come è avvenuto nel caso di Grafica Veneta che due anni prima lamentava l'incapacità di trovare personale nonostante brillantissime condizioni di lavoro e che poi di fatto poco tempo dopo è stato oggetto di uno scandalo in cui si sono rivelate esserci condizioni di semischiavitù quindi sì è un asciugamano asciutto che continua ad essere spremuto le grandi dimissioni sono una forma di resistenza sottrazione individuale a questo modello però quello che ci servirebbe in questo momento è più una risposta collettiva che prende atto di questi sintomi e che prova a ragionare su un'alternativa comune mi verrebbe in mente sempre da storico economico abbiamo sostituito le svalutazioni competitive con la compressione dei diritti del lavoro ma alla fine questo è il nostro sistema produttivo ha questa caratteristica o comprime svalutando la moneta adesso non possiamo più farlo perché abbiamo l'euro e quindi comprimiamo i diritti dei lavoratori è stato esattamente così infatti lo vediamo in particolare dopo l'introduzione dell'euro lo abbiamo visto in modo esplicito l'ex premier Renzi diceva venite a investire in Italia perché abbiamo i salari più bassi d'Europa e lo vediamo sia nella competizione con l'estero che con la competizione interna quindi nella ristorazione dove non c'è la competizione con l'estero lo vediamo nella competizione in alcuni casi tra ristoratore e ristoratore e vediamo quell'improvvisazione che diventa tutta giocata su un salario che è variabile e dipendente di tutto il resto prima apro poi tento la fortuna e il salario sarà ciò che resta di quel che guadagno Francesca, Alberto in chiusura di puntata mi sento di fare una riflessione in DOI noi parliamo spesso di tradizioni inventate di origini inventate in questo caso l'invenzione è confidare nel fatto che l'Italia possa sopravvivere possa resistere solo col turismo è una favola è un'invenzione non possiamo credere a questo è anche un'illusione mi verrebbe da dire è un gioco di prestigio che probabilmente non funzionerà ma che è stato utile per negare il fatto che ciò che servirebbe realmente quindi investimenti in ricerca di sviluppo una politica realmente industriale e lavoro di qualità è una strada più difficile da percorrere come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata comincio io ricordando il libro di Francesca Coen Le grandi dimissioni edito da Einaudi assolutamente da non perdere io vado con un grande classico che si ricollega al lavoro di Francesca La dinamica del capitalismo di Fernand Brodel e il mulino editore aggiungo un libro anch'io Il lavoro non ti ama di Sara Jaffi edito da Minimum Facts Francesca è stato un grande piacere averti qui con noi e naturalmente speriamo che tu possa tornare come ospite di DOI anche in futuro grazie Daniele grazie Alberto è stato un grandissimo piacere grazie a te siamo in chiusura vi invitiamo come sempre a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast sia su Instagram che su TikTok in cui ogni giorno potete trovare video delle puntate ma anche contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi concludiamo rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta da una nostra ascoltatrice Martina Martina sa che sei un esperto di paure alimentari e ci chiede come mai dopo la scoperta dell'America si diffuse una paura per il pomodoro e la patata ma non ci fu paura a consumare il tacchino è difficile rispondere a questa domanda probabilmente la questione è che il tacchino assomigliava a qualcosa che gli europei conoscevano già penso al pollo al cappone insomma altri animali da cortile che erano già facevano già parte del panorama alimentare degli europei e quindi diciamo che creava meno timore il pomodoro e la patata non assomigliavano a niente rispetto a quello che già mangiavano gli europei avete ascoltato DOI denominazione di origine inventata un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati produzione di Gabriele Beretta per OnePodcast di Gabriele Soffiati di Gabriele Soffiati Grazie a tutti.